quella sera mary davis era sola in casa suo marito era fuori per lavoro e lei aveva paura aveva paura sia perché la casa si trovava in un luogo molto solitario sia perché lei era bruna e sulla trentina proprio il genere di donna che lo strangolatore di boston prediligeva la confortava un po il fatto di trovarsi a migliaia di chilometri da boston ma d'altronde lo squartatore di londra aveva gli stessi gusti infatti di vittime e quella casa era molto vicina a londra mentre era immersa in questi tristi pensieri la donna udi squillare il telefono sollevò la cornetta ma sentì solo il suono di un carillon e un respiro affannoso ciò la spaventò terribilmente perché lei aveva visto parecchi film del terrore e sapeva che in quei film simili telefonate erano sempre annunciatrici di orrendi delitti telefonò allora la polizia male fu detto che nella realtà gli assassini di solito non fanno simili scherzetti che l'uso del carillon non è vietato dalla legge e che anche avere l'asma non è un reato circa mezz'ora dopo il telefono squillò di nuovo e mary si affrettò a rispondere sghignazzò una voce maschile sono lo squartatore e sto venendo a ucciderti è inutile che cerchi di telefonare alla polizia perché ha tagliato i fili del telefono ed è inutile che cerchi di scappare perché la tua casa è già stata circondata dalla mia banda la donna passò i 14 minuti successivi a tremare e battere i denti ma poi le venne in mente una cosa come ha fatto a telefonarmi se aveva tagliato i fili pensò capì allora che l'uomo l'aveva ingannata cercò di chiamare la polizia ma nel frattempo l'assassino aveva tagliato davvero i fili del telefono mary si vide perduta ma poco dopo le venne in mente un'altra cosa ogni squartatore che si rispetti lavora da solo perciò non doveva esserci nessuna banda intorno alla casa decise quindi di uscire intanto il dottor simac meglio noto come lo squartatore di londra si aggirava intorno alla casa aspettando che mary uscisse appena aprì la porta la donna si vede davanti l'assassino chi è lei chiese spaventata sono il dottor simac disse lui meno male disse lei avevo proprio giusto bisogno di un dottore perché mi sento male ma io non sono un medico sono dottore in agraria è in casa la signora davis in quel momento mary notò che l'uomo oltre ad avere un'area assai feroce portavano i guanti neri e impugnava minacciosamente un rasoio capì allora che quello era l'assassino egli non l'aveva riconosciuta perché per lo spavento i capelli di mary erano diventati bianchi e lei dimostrava almeno vent'anni in più di quelli che aveva è uscita disse lei e adesso vado anch'io allora ucciderò te disse lo squartatore brandendo sempre più minacciosamente il rasoio per fortuna si trattava di un rasoio elettrico in quel momento arrivò l'ispettore evans di scotland yard con una decina di agenti il dottor simac fu immediatamente arrestato quando il sergente mi ha detto della sua telefonata ho subito capito cosa stava accadendo disse l'ispettore come ha fatto chiese mary sono anch'io un appassionato di film del terrore spiegò lui